Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Con le stelle 2024 si preannuncia come una delle edizioni più avvincenti di sempre, con concorrenti di alto livello pronti a sfidarsi sul palcoscenico. Chi sarà il vincitore? Le scommesse sono aperte, ma per scoprirlo non ci resta che seguire la nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai Uno a partire da domani sera. Grazie a tutti!